Convergenza S.P.A., società Benefit, operatore di tecnologia integrato, attivo nei settori telecomunicazioni ed energia 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network Evo, comunica l'apertura di due nuovi siti di e-commerce per la vendita dei servizi con fibra e con gas, i due nuovi portali che si aggiungono a Lighthouse, creato nel 2019 per la commercializzazione online dell'offerta luce green della società, sono dedicati alla vendita di altre due componenti chiave dell'offerta Convergenze, la connessione internet ultraveloce in fibra ottica FTTH e la fornitura di gas naturale. L'apertura dei nuovi siti di e-commerce rappresenta una leva fondamentale nella strategia di sviluppo futuro di Convergenze, basata sulla spinta del marketing per ampliare la propria base clienti e consolidare quella attuale attraverso la diversificazione dell'offerta dei servizi disponibili e l'accessività degli stessi su tutto il territorio nazionale. I siti web rendono infatti possibile raggiungere un target di utenti nazionale e sottoscrivere in pochi semplici passaggi i servizi scelti direttamente online ad un prezzo competitivo. Il cliente potrà monitorare i consumi e i relativi costi attraverso l'app di Convergenze scaricabile sul proprio smartphone gratuitamente dagli app store Apple e Google e sempre attraverso la stessa potrà essere aggiornato sulle novità del mondo Convergenze. Rosario Pingaro, amministratore delegato di Convergenze, ha commentato che i due nuovi siti insieme a quello già attivo sono molto importanti poiché ci permettono di essere vicini ai clienti di tutta Italia, anche dove non abbiamo ancora punti di presenza fisici. Inoltre, aver investito anche per il rafforzamento della nostra presenza online, coerentemente con gli obiettivi strategici dichiarati in sede di Ipo, è un elemento di valore che ci distingue dalla maggior parte dei competitor che ancora non hanno puntato sulla virtualizzazione della propria offerta. L'obiettivo di Convergenze è infatti quello di rendere tutto smart, ottimizzando i processi della Customer Experience e del Funnel di vendita per il cliente finale.